Buongiorno da Andrea Cartotto. Può accadere di avere una immagine scaricata sul nostro computer, magari anche con un nome generico, e insomma non ricordarci oppure voler sapere quella immagine che cosa sia? Ebbene, ci basta darla in pasto a Google. Google tramite il suo algoritmo sonda, diciamo, tra i vari risultati e prova appunto a darci una risposta. Questa funzione l'ho usata non più tardi di un'ora fa con una mia allieva che aveva un dubbio su un dipinto. Aveva scaricato una foto da internet e non ricordava che dipinto fosse se fosse o meno un dipinto impressionista. Guardate come l'ho aiutata a risolvere. Allora, tramite un qualsiasi browser, programma di navigazione, ci portiamo su www.google.it Guardate, partiamo proprio dalla base, eccoci qua, e quindi clicchiamo su immagini in alto a destra. Vedete che la ricerca per immagini di Google può esprimersi in tre differenti maniere. Clic sulla lente per ricercare attraverso parole chiave digitate, clic sul microfono per una ricerca vocale, clic sulla macchina fotografica, sulla icona, forma di macchina fotografica, proprio per pescare una immagine dal nostro dispositivo e darla in pasto a Google. Guardate, un clic, tasto sinistro, poi un clic, tasto sinistro, su carica un'immagine e un clic, tasto sinistro, su scegli file. A questo punto, nel mio caso, clicco a sinistra sulla cartellina dei download, ma naturalmente potete usare la cartella di riferimento sul vostro dispositivo. Il dubbio era circa questo dipinto, il cui nome appunto è dipinto, ma insomma, o è proprio famosissimo, tale per cui sia impossibile sbagliare, o posso aver bisogno di capire che cosa sia. Bene, guardate, lo tengo selezionato in azzurro, un clic su apri, viene caricata l'immagine all'interno del database di Google e guardate, hop, intanto, in un attimo, vengo a sapere che è un dipinto di Gustave Caiebot. E so anche, diciamo, le dimensioni dell'immagine che io gli ho dato in pasto, con tanto di suggerimento sulla possibile ricerca correlata. Ecco, se ho la pazienza di scorrere pian pianino, trovo le immagini visivamente simili, e già a destra, se butto l'occhio, vedo che si tratta di Parigi in un giorno di pioggia del 1877. Beccato il titolo, eh? Però, se ancora scorro appena appena, ecco che, in funzione poi ovviamente della popolarità dell'immagine, mettiamolo in conto, io trovo anche tanto di descrizione. Strada di Parigi in un giorno di pioggia, scheda tratta da Wikipedia, in questo caso con un clic, ho anche la possibilità di avere non solo informazioni generiche sul dipinto, ma delle informazioni un pochino più complete. Ecco una funzione, facile facile, che si attua sul nostro computer, ma si può fare anche da mobile, su smartphone o tablet. Mi raccomando, l'unico accorgimento da adottare in quel caso è di toccare l'icona di Chrome, di andare in alto sui tre pallini e selezionare richiedi sito desktop, per vedere il nostro Chrome da tablet o smartphone esattamente come se fossimo davanti al computer. A voi sempre la prova pratica su strada, e sperando come sempre di essere stato di aiuto, un caro saluto da Andrea Cartotto con appuntamento al prossimo videocorso.